le infila ah no forse si le ho viste le guardie dell'imperatore sono molto belle adesso ci avviamo a gallarate momento pubblicità per il clan di Andrea di Agents of S.H.I.E.L.D. Gloria sciroccati clash of clans 62esimi in Italia ecco adesso che hai fatto la tua pubblicità sei contento? siamo molto molto figlio molto siete molto siamo molto tieni molto abbiamo molta moltezza è molta moltezza dammi il telefono moltezzino ah l'hai messo lì grazie adesso noi andiamo adesso noi andiamo a cercare i porchemon i porchemon i Magikarp che abbiamo estinto questa sera Gloria ha estinto la popolazione dei Magikarp esatto però io ce l'ho fatta ho raggiunto 100 caramele ghastly e posso far evolvere Hunter guarda vuoi guardare? che figo che schifo mi aspettavo salisse di più era 500 100 cioè di 300 poi il spettro veleno non è folletto no non ne frega niente non lo voglio neanche più questa è la situazione tutti quanti che giocano a pokemon ball buongiorno buon pomeriggio oggi è mercoledì se non sbaglio non vi ho ripreso ieri oramai è tipo un rito c'è il sole che va e viene c'è una giornata veramente assurda tra l'altro io volevo uscire io ho pulito nel frattempo tutta la casa ho cambiato le lenzuola ho fatto le lavatrici ho lavato per terra ho pulito il tappeto la cucina ho fatto tutto tutto volevo uscire perché in frigo non ho assolutamente niente infatti non ho né fatto colazione né pranzato ho una fame assurda ho solo bevuto un caffè d'angela e un succhino di quelli vitaminici ho perso tempo praticamente tutto il giorno ieri a fare queste foto modificarle caricarle e niente ho fatto di tutto tranne che firmarvi poi la sera come sempre siamo usciti mi dispiace tanto che non vi è firmato niente ma siamo andati ancora a caccia di pokemon e anche stasera oramai è rito tutte le sere usciamo a caccia di pokemon è una cosa bellissima secondo me perché almeno io e Andrea passiamo anche più tempo insieme e poverino è stanchissimo perché è veramente tanto stanco perché lui la sera prende e mangia guarda un'oretta di tele e poi va a dormire e adesso invece la passiamo fuori a prendere i pokemon torniamo alla stessa ora che poi va a dormire però alla fine fai anziché stare sul divano che non sprechi energie cammini quindi sprechi più energie e sei più stanco però è una cosa che fa volentieri perché almeno si svaga stacca comunque la non è tanto il fatto del lavorare fisicamente che ti stanca è proprio un fatto mentale secondo me che gli serve anche staccare che torna a casa fa qualcosa di diverso e poi va a dormire anziché tornare a casa e dormire direttamente quindi il cervello continua sempre a stare in modalità lavoro e secondo me è una cosa bruttissima infatti era anche un po' depressino patatino però adesso lo vedo un po' più felice parliamo sempre solo di pokemon è vero? almeno è contento e niente io ho fame tanta tanta fame quindi mi muovo a prepararmi volevo registrarvi un get ready with me ma sprecherei troppo tempo ora che metto la videocamera registro e veramente ci impiegherai tantissimo e quindi niente mi trucco velocissimo e esco ci ho messo più tempo a spiluccarmi che avevo tutti i peletti qua sotto che a truccarmi che le sopracciglia sto notando le sto facendo tipo in un tempo record una roba assurda un velociraptor cazzo c'entra allora sto preparando lo zainetto che oramai questo qua è il mio migliore amico perché sto sempre andando in giro con questo dato che è più comodo e non è scomodo come la borsa che mi va davanti e questo zainetto me l'avete chiesto in tante che ogni volta lo ripeto ma ovviamente non è che magari tutte si guardano i vecchi video questo l'ho preso alla ritmo shoes l'unica cosa sicura che mi porto è il caro amico ombrello perché sfigata come sono verrà a piovere sono pronta andiamo non vedo l'ora di mangiare il mio bel babà vado in pasticceria e mi mangio un babà allora buon pomeriggio allora io ho preso il succo al cocco quello della skipper nuovo che non avevo mai provato e poi questa delizie osè delizie come vi ho detto non ho ne fatto colazione e ne pranzato quindi me le posso concedere cioè ciao ne proprio guardate qua buon appetito sembra latte in realtà ci avassaggiavo buonissimo è tipo sa di frutta però il cocco buono buongiorno buon oramai buonasera buon pomeriggio barra buonasera no che cosa sto facendo sono alle 6 e ho sprecato tutto il pomeriggio cioè ho sprecato non vi ho ripreso il pomeriggio perché siamo usciti io e mamma Andrea siamo andati a a fare un sacco di cose delle commissioni e poi stamattina avevo Isa e non vi ho filmato niente perché io e Isa abbiamo dormito meno tardi ciao allora c'è qui con me Mattia ah non si vede ci sono gli arbre magique ciao patatine patatine bravissimo che tra l'altro lui ha appena aperto un canale vabbè adesso magari di come si chiama ma Tia TV Tia TV ve lo metto nell'info box poi mi passi il link su Facebook che io lo copio nell'info box e andatela a seguire perché farà gameplay quindi tutti i maschietti che mi seguono ragazzi ne chiamano giocare parlano pure un po' di calciomercato esatto quindi seguitelo perché è il mio patatino che abita vicino e quindi dovete seguirlo ma sia te carino stiamo andando a perdere tempo perché mi offre la cena la mamma stiamo andando a mangiare il sushi ma non al solito Hiro ma quello di Somma che si chiama Wan Wan Andrea non è venuto perché perché no non è rimasto a casa in realtà si sta anche riposando perché oggi vi l'ho detto siamo stati in giro tutto il giorno e non ha dormito niente il suo unico giorno di riposo come sapete lui ne ha 1-2 pomeriggi a settimana se va bene se no non ne ha proprio ieri c'era la pioggia il diluvio e siamo usciti in macchina a farci tutti i pochi stop ah non l'ho fatto perché sono siamo senza palle detta così è bruttissimo siamo senza palle e quindi abbiamo dovuto fare il rifornimento nei pochi stop hai visto qualcosa che ti piace? eh ci sono parecchie cose che carucci questi con tutti i mini asciugamanini per il viso tipo mia mamma prima entrando cosa ha detto? qua c'è scritto jazz e lei ha scritto e lei ha detto jazz sei una sprecona non sono sprecona si hai tirato un sacco di carta e ma è rimasta libera sei una sprecona allora ecco visto che siamo in tema outfit vi dico che cosa sto addossando oggi pantaloni pull and beer e magliettina presa max moda sei una sprecona 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 andiamo andiamo stiamo parlando di una signora che ha una maglietta con un metro stampato sulla sulla maglietta e poi la gonna con tipo le impunture al lato e lo spacco ok ho capito quindi fa pantaloni con la maglietta che è una sarta magari è una sarta davvero e si veste così per far capire che è una sarta profumo di tempura oddio è come l'altra sera che sentivo il profumo di tempura abbiamo già fatto fuori l'insalata di pesce crudo e adesso sono arrivati i wonton fritti con gambero che carine come sono fatti questo si chiama mango tango è la prima volta che gloria sperimenta un orangotango sushi strani wow assaggiamo questo è l'altro tempura qualcosa che l'ha detto non mi ricordo vabbè non avete idea questa cosa che ci portano un piatto ogni ogni otto giorni ho più fami di prima vedete la volta del ramen che ovviamente questo ragazzi sarebbe un unico piatto o no si era un unico piatto era un unico piatto questo vedemi se non sono pucciosi guardate che carini mochi con dentro tra l'altro il gelato al cioccolato dolce un po' stannato la desolazione non funziona non funziona nessuno siamo tutti sfigati intanto siamo alla ricerca di onyx perché ad andrea gli è uscito e ovviamente finché non aggiustano sta roba dei passettini è una merda è entrato è entrato sono arrivata al livello 21 fatemi gli applausi bello guarda c'è il pokemon più famoso di tutti bianco bianco ragazzi gli è uscito nell'uovo da 10 onyx a 490 questo è una sfiga proprio no vabbè allora gliene era uscito uno a 120 e l'ha buttato e gliene è uscito un altro adesso a 400 e incazzato nero sei arrabbiato vero? 10 chilometri a camminare in onyx 470 hanno già buttato tre tre hanno buttato c'ho 57 caramelle di onyx io te l'ho ebbè è buona mangi i sassi oddio che sera tazza ragazze che sera tazza parte 2 ciao questo è il mio pranzo di oggi e non mette a fuoco uguale a quello di ieri però non c'è il babà e ho dovuto prendere il bignè ciao a tutti ragazzi ciao praticamente abbiamo fatto girare di qua Giovanni perché c'è una cosa importantissima per tutte le persone che abitano a Casuletta e Simpione che andranno a Santito dal 3 settembre fino al 13 fino al 13 ecco che ti inquadro questo ragazzo ha ideato un'applicazione super figa spiega tu allora io e altri ragazzi abbiamo creato un'applicazione che sarà breve disponibile sul sito di Santito e prossimamente sul play store un'applicazione di Santito dove c'è la possibilità di guardare gli eventi dalla mappa dove vengono svolti altri punti di interesse come il tuo point punti di pronto soccorso i bagni anche si è dato per me va benissimo tutti i parcheggi esattamente per me non va perché non guido può anche poter visualizzare il sito di Santito proprio esattamente quindi vabbè io se mi ricordo mi mettono in info box il sito che lo possono già trovare no da quant'è che sarà perché questo video andrà online praticamente domani mattina il sito c'è ancora il link del download ancora non c'è ok sarà disponibile tra qualche giorno se lo stanno ancora finendo devono mettere tipo pop up sarà solo per android ah già tipo io sfigatissima che ho l'iphone non lo posso non lo posso usare questa app soprattutto è importante dire chi è che l'ha fatta sia Giovanni Giovanni Federico si parlava in terza versione mi hanno detto Federico Mirko e Michael esatto ciao per tutti coloro che andranno a Santito e poi vi vorranno magari anche vedere metteranno un punto speciale per visualizzarmi scherzo sei che figo però vabbè niente quindi questo è quanto ci tenevo a farlo perché è un'app che hanno creato loro da zero e tanto di cappello ma cos'è che c'è un rossetto sono appena tornata a casa sono stanchissima perché sono tornata a casa a piedi mi sono fatta un giro di tutti i pochi stop e ho camminato tantissimo non vedo l'ora di infilarmi sotto la doccia ho tipo l'illuminante naturale come vedete stamattina e oggi pomeriggio ho passato tutto tutto questo tempo a fare foto e video per un progetto che con Sephora che voi vedrete online insomma non su YouTube ma su Snapchat e Instagram e The Beauty Board di Sephora ho fatto insomma un po' di queste cose qui sono stata dietro tutto come vi ho detto tutta la mattina barra pomeriggio e adesso devo mandarle via mail su WeTransfer insomma devo stare un po' dietro al computer poi dopo mi metto già a montare i weekly quindi io vi salutare qui perché che faremo oggi? niente io sarò sempre al computer editerò i video perché stasera usciamo e quindi non avrò tempo di di bloggare di editare fino a stasera questa embrea olè eccomi qua e quindi dicevo niente adesso vi saluto perché così almeno è il tempo di di montare questo weekly altrimenti stasera dicevo non ce la posso fare perché arriveremo tardissimo come sempre spero che questa settimana come sempre non vi abbia annoiato che io vi abbia tenuto compagnia non vedo l'ora di infilarmi sotto la doccia quindi vi saluto vi mando un mega iper bacione e ci vediamo al prossimo weekly o al prossimo video se non fa troppo caldo per girarlo ciao